Tempio crematorio è una lettera ancora intrisa di dolore e di rabbia quella scritta da Paolo Galuppi ex consigliere comunale componente dell'associazione a casa con noi. Il 26 ottobre scrive sono ancora una volta davanti al crematorio di Biella per ricordare i nostri cari e per rivendicare come familiare quel ruolo che la giustizia dovrebbe riconoscerci e far comprendere a quelli che ci hanno fatto del male. Oltretutto senza mai chiedere perdono come mai dimenticheremo e allenteremo la nostra attenzione su di loro. Il gruppo a casa con noi di cui fanno parte alcuni familiari dei defunti passati dal crematorio biellese nel periodo in cui si sarebbero verificati gli abusi sono ancora una volta presenti. Tre anni fa alle 4 del mattino i carabinieri della polizia giudiziaria guidati dal luogotenente Tindaro Gullo avevano arrestato Alessandro Ravetti ed un dipendente sequestrando l'impianto. Era stato l'atto conclusivo di una lunga e accurata indagine condotta dal procuratore Teresa Angela Cameglio partita dalle rivelazioni di un ex dipendente. Alle 4 e 30 di venerdì mattina alla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri all'interno della procura ha attuato due custodie cautelari, una a carico del legale rappresentante dell'azienda funebre Ravetti e l'altra a carico di un dipendente. Le ipotesi di reato sono davvero diverse e terrificanti. All'interno della conferenza stampa che si è tenuta in procura si è parlato di una lugubre catena di montaggio della morte a scopo di lucro. I corpi venivano bruciati insieme, venivano ridotti in pezzi, venivano buttati vicino al cassonetto dell'indifferenziato coperto da fiori per poi essere smaltito nei rifiuti urbani. L'azienda funebre Ravetti aveva incrementato il suo lavoro del 441% dal 2016 al 2017. Il forno lavorava da mezzanotte alle 4 del mattino. venivano bruciati due corpi contemporaneamente, venivano ridotti attraverso del materiale che è stato sequestrato all'interno dei 900 metri quadrati di area. Con un'ascia, una roncola, due palanchine, una mannaia, i corpi venivano ridotti proprio per bruciare più velocemente. Da 4-6 cremazioni al giorno ne praticavano praticamente 15. Quello che hanno trovato i carabinieri dal 20 settembre ad oggi, durante tutte le riprese, le indagini notturne, è davvero terrificante. Allora sentiamo il commento del procuratore capo. Un terribile scandalo ha coinvolto il cimitero di Biella ed in particolare il forno crematorio. Una lugubre catena di montaggio di morte a scopo di lucro. Così ha iniziato proprio in conferenza stampa il procuratore capo del tribunale di Biella. Ci spieghi. di questa indagine condotta con grandissima professionalità e grandissimo spirito di sacrificio da parte degli ufficiali della sezione di polizia giudiziaria aliquota carabinieri della procura di Biella. Con il massimo riservo è stata condotta appunto questa indagine che presuppone naturalmente una immediata iscrizione di notizia di reato.